video reaction di lui Ramon Dino con lui che potrebbe spodestare Chris Bansett magari non quest'anno ma tra uno o due anni questo ragazzo brasiliano con il suo coach Fabrizio Pascioloc che cura tutto l'aspetto dell'allenamento insieme a Chris Aseto il più grande coach della storia vediamo un attimino cosa faranno qui se non mi sbaglio Ramon è appena finito l'off season stava a 116 kg poi è iniziato la fase di definizione perché dovrà gareggiare sui 103-101 kg Fabrizio Pascioloc che è un grandissimo grandissimo coach mi capisce tantissimo di allenamento a lui piace tantissimo le tecniche di densità tantissimo l'isometria per il dorso lo so perché lo seguo già da più di dieci anni conosco tantissimi atleti suoi e lui riesce realmente a migliorare la schiena di tutti questi atleti ora vediamo se riuscirà a migliorare la schiena di Ramon è un punto carente per lui perché manca di maturità il ragazzo ha una genetica pazzesca dicono che sia la miglior genetica quasi del mondo ma purtroppo non si sa allenare bene lui che è cresciuto diciamo dal nulla ha vinto il tesserino pro mangiando riso e uova quando poi l'hanno scoperto l'hanno visto come si allenava si sono tutti messi la mano in testa si allenava in modo estremamente leggero e già era estremamente grosso quindi pian piano con questi coach e il supporto di questa azienda la Maxi Tamion il ragazzo in uno o due anni è migliorato tantissimo quindi ha un margine di miglioramento ancora maggiore considerando che tre anni fa mangiava risi e uova e non si sapeva allenare già ora al mistero di impia è arrivato se non mi sbaglio quarto o quinto posto iniziano da una cosa molto importante mobilità io seguo Ramon già da un anno e mezzo e lui soffre molto tanto di mal di schiena questa per loro è una priorità fare mobilità prima dell'allenamento è una cosa fondamentale iniziano da una bellissima let machine chiude le scapole sta solo riscaldando l'articolazione babbo natale se non mi sbaglio questo poi tra l'altro è stato il loro primo allenamento di schiena quindi lui ora qui sta cercando di capire un pochettino delle limitazioni articolari di Ramon eccetera sta spiegando a lui come sentire di più anche la schiena questo è uno dei primi step quando si cerca di insegnare una persona a sentire il dorso già qui vediamo il quanto Ramon si avvergine sotto questo aspetto non ha ancora una buona connessione al mente muscolo e quindi sta ancora imparando tante piccole cose ed ecco perché dico che ha un margine di miglioramento enorme c'è un ragazzo così che non si sa allenare figuriamoci una volta che impara ad allenarsi bene quanto può migliorare ecco vedi io poi per chi non lo sapesse io sono brasiliano il suo allenatore quello diceva noi abbiamo iniziato con una parte un po' più tecnica adesso ci buttiamo su un qualcosa di più grezzo e bruttale adesso vediamo cosa farà inizia da un esercizio in modo molto tecnico con una precisione buona mantenendo un'isometria e usano anche dei carichi diciamo abbastanza alti tecnica con qualcosa di più bruttale qui l'ultima serie molto più pesante sicuramente ora lo porterà oltre al cedimento anche con qualche ripetizione forzata ha fatto solo tutto il pacco pesi vedi lui ora ha detto inclinarsi leggermente indietro per togliere tensione dal braccio hanno iniziato con due esercizi dall'alto verso il basso quindi una lat e una lat con la presa più stretta ora cambiando poi l'angolazione questo è una tipologia di allenamento che a me non piace tanto è estremamente tecnica e noiosa non mi soddisfa ma evidentemente loro sono lì per fare quel che serve all'atleta e non ciò che gli diverte fateci caso come e quanto fa la differenza avere una persona che ti segue durante l'allenamento lui probabilmente sarebbe fermato già 5-6 ripetizioni prima ma con il coach che lo spinge oltre lo fa arrivare ad un'intensità molto 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 alta e ora qui un bel row a un braccio questo attrezzo life fitness a due braccia perde un po' di tensione probabilmente perciò lo fanno a uno lui ora ha detto a Ramon che all'inizio è normale non riuscire a caricare tanto perché lui sta aggiustando a livello tecnico tante piccole cose quindi quando modifichi l'esecuzione di una persona o di un atleta questa persona poi si sentirà scomoda nell'eseguire l'esercizio ora passano a un low row già partono con 40 kg al lato questo che è un esercizio molto versatile dove possiamo isolare il gran dorsale oppure mettere un focus maggiore sul centro schiena a seconda di come ti posizioni nell'attrezzo e se esegui staccando il petto o meno come appena fatto in questo caso in questa angolazione dove piega molto poco l'avambraccio fateci caso riesce ad isolare molto il gran dorsale molto interessante questa variante non ti permette di caricare molto perché non usi tanto le braccia però senti molto la schiena vedi lui qui continua in ogni esercizio a cercare di insegnare Ramon a contrarre la schiena dove chiude prima le scapole e poi tira provate anche voi quando vi allenate all'inizio è molto difficile però poi cosa succede? ora è bruttissimo da vedere lui che si allena così però diventerà automatico questo movimento noi ora lo vediamo suddiviso capola torna capola tira poi pian piano riuscirà a farlo in un solo movimento senza evidenziare così tanto che sta suddividendo l'esercizio e l'esecuzione e qui un bel row hammer strength inglese perfetto con la presa alta e i gomiti medio alti cercando di concentrare il focus del lavoro lì sulla parte alta della schiena probabilmente lo sta dicendo cercare di schiacciare le sue mani è quello che ha fatto Ramon in quell'esecuzione per me era già arrivato al cerimento 5 ripetizioni fa invece vedi lui si è messo lì e ne ha fatto fare altre 5 questo è quello che fa la differenza di un professionista quando hai qualcuno che ti spinge oltre al limite lui lì riesce realmente a fare la differenza allenamento infinito che non finisce più hanno fatto 1, 2, 3, 4, 5 questo è il quinto esercizio e il carico non è basso ci sono 80 kg al lato quinto esercizio con una buona tecnica impressionante poi un'altra cosa importante molte persone vedono i professionisti che si allenano poi dicono ah beh doped lo può fare 5 esercizi per il dorso qui è semplicemente un discorso di quante serie porti al cerimento un atleta estremamente avanzato che si sicuramente fa uso di alcune sostanze ha un recupero molto più veloce quindi può arrivare al cerimento con una frequenza maggiore ma questo allenamento qualsiasi persona intermedia potrebbe fare sono 5 esercizi per il dorso 3, 4 serie per l'esercizio tutto dipende da quante serie porti al cerimento perché magari una persona intermedia natural porta al cerimento prova a portare al cerimento ogni serie non riuscirà poi a sostenere più di un mese di allenamenti così quindi questa è la differenza loro si scassano e hanno il recupero più accelerato rispetto a una persona natural non sto dicendo che è la stessa cosa e quindi ma già sto sarò attaccato ma già riesco a immaginare i commenti non sto dicendo che è la stessa cosa ma che tutto va contestualizzato il 99,9999 periodico dei ragazzi che seguo sono natural molti tantissimi intermedi avanzati fanno 5-6 esercizi per il dorso per i muscoli grandi e hanno tantissimi risultati quindi il problema è questo quando un natural pensa di avere un handicap una sorta di disabilità ah no non posso fare questo perché sono nato non posso fare quello perché sono nato non funziona così voi mettetevi sotto i pesi scassatevi nel buon senso cercando di tracciare tutte le progressioni e sicuramente migliorerete se sarà troppo il vostro corpo ve lo dirà ma è meglio scoprire quanto sia realmente troppo piuttosto che restare in quella zona dove non migliori e Ramon che sta facendo questo esercizio da mezz'ora 2, 4, 6, 8, 10 ha ricato 100 kg al lato la quinta serie e sta facendo drop set tutto a scalare tosto 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 come allenamento pensa al mistero limpio ora pensa al mistero limpio morto se ne va non torna mai più ora chiudono con un esercizio per i posteriori un esercizio per i lombari isolato l'hipertension e chiudono l'allenamento così è stato un buon allenamento penso che farà un altro allenamento per il dorso dopo 5-6 giorni considerando il volume di questo allenamento e l'intensità immagino che in questa fase farà una sorta di monofrequenza quindi un gruppo muscolare al giorno poi passerà una multifrequenza più si avvicina alla gara Fabrizio Pascioloc che ha una strategia per migliorare i punti carenti molto particolare e strano ovviamente non è suo un metodo utilizzato nel bodybuilding underground quindi sono delle strategie tecniche e teorie che non vengono sopportate da un'evidenza scientifica ma sono cose che i culturisti sanno che funzionano cioè lui ad un atleta che conosco faceva fare il dorso tutti i giorni quindi lui aveva un giorno petto però faceva anche il dorso due esercizi un giorno gambe però faceva anche il dorso due esercizi un giorno deltoide però faceva anche il dorso due esercizi e poi aveva anche il giorno solo di dorso e con questa tecnica è riuscito a migliorare quel punto carente di quell'atleta ovviamente calcolando bene il volume però questo per farvi capire che spesso il bodybuilding va anche controcorrente ci sono tante cose che funzionano però dovete provare il bodybuilding è così provate dopo due o tre mesi ok non ho avuto risultati non mi è piaciuto e poi da lì potete dire se una cosa funziona o meno cosa che ho detto ora non c'entra niente con il video però così lo volevo dire lasciate un bel like iscrivetevi al canale e lasciate anche un bel commento del prossimo video reaction che dovrei fare ciao 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 ciao